Sto Natale Sto Natale Non esiste un Natale da dimenticare Il giorno di Natale è un punto firmo nel tempo delle nostre vite Un giorno dove si danno appuntamento i ricordi, i ricordi di tutti Ricordiamo il primo Natale passato in famiglia, il primo trascorso lontano Il primo Natale con il nostro amore o quello senza una persona cara I ricordi possono sparire facilmente, rapidi dal passare del tempo, dalla noia e dalle novità Ma questo non vale per i ricordi di Natale Niente e nessuno può farli sparire E' anche vero però che non esiste un Natale uguale ad un altro Forse è questo il bello Altrimenti come avrebbe fatto l'umanità a festeggiare fino ad ora ben 2019 Natali Ci pensate? Stiamo festeggiando il 2020 Che è sicuramente diverso da tutti gli altri, molto diverso Meno abbracci per le strade, sorrisi coperti e soprattutto il primo Natale senza gli zampognati Chi l'avrebbe mai detto? Ma non abbiamo scuse Natale è sempre Natale E per non dimenticarlo proveremo insieme a ricordare la sua magia Cantando per lui e raccontando le sue tante storie Ed è per questo che presentiamo i primi quattro ragazzi che vogliono omaggiarci Giuliana Cassese, Cristina Donna Luma, Tresia Autorino, Chiara Zembrino E' quasi Natale E' a Napoli che freddo fa Io parto da Milano Per passarlo con mamma e papà Il mondo Forse no, non è cambiato mai E' pace In terra non c'è, non ci sarà Perché noi non siamo uomini Di buona volontà Con l'augurio che la musica possa rispondere la vita di tutti Tanti o tutti i miei E' a Napoli che la musica possa rispondere la vita di tutti E' a Napoli che la musica possa rispondere la vita di tutti E' a Napoli che la musica possa rispondere la vita di tutti E' a Napoli che la musica possa rispondere la vita di tutti E' a Napoli che la musica possa rispondere la vita di tutti E' a Napoli che la musica possa rispondere la vita di tutti E' a Napoli che la musica possa rispondere la vita di tutti E' a Napoli che la musica possa rispondere la vita di tutti E' happen E' a Napoli che la musica нес protect regarde la musica possa rispondere la vita di tutti E' a Napoli che la musica possa rispondere la vita di tutti E' a Napoli che la musica possa rispondere la vita di tutti E' a Napoli che 기�ano le persone l haunted E' a Napoli che casagliate l 추가�� E' la justificate nella vita di tutti S�� forma di tutto chi dice che fosse un meteorite e chi dice che fu l'incontro di tre pianeti Giove, Saturno e Marte altri ci raccontano di una supernova, una stella piccola e lontana ma che a un certo punto della sua vita esplode dividendosi in mille pezzi, visibili per mesi e mesi, anche di giorno qualcosa seguirono quei magi forse è solo la speranza di veder nascere un mondo migliore una speranza che vola nel cielo, attraversandolo e illuminandolo precisa e sicura, perfetta guida della verità immaginate Giuseppe e Maria stanchi del viaggio che si avviano verso la campagna a buia in cerca di un riparo e una piccola stella, la più piccola, umile e gioiosa fra le stelle che si accorge di loro e si avvicina alla terra illuminando il loro cammino quale sia la verità non possiamo essere noi a raccontarvelo quello che non possiamo dimenticare però è di seguire quella stella anche quando tutto è avvolto dal buio ognuno, lassù nel cielo, ha la sua e quando arriva Natale, quella stella, la nostra stella si avvicina alla terra ci mostra la giusta strada e il giusto riparo guardiamo il cielo tra quelle stelle ci sono i nostri passi ci sono i nostri passi ci sono i nostri passi La terra santa, la tua nottietta, arrivai alla torta mondata, stella città, la puntata, tutta sta gente. Quanta amistere come la contate, la pura sto paese, la pura nauma, ma m'era nana, la pastipreda grisca non c'è mai passata. Il vento si riuscì, la donna è nata Dove quando veniva Natale, ci sentiva tutto chi parlava Quando accetta, spetta sera, il coso vecchio liceo È primavera, è primavera, tutto vecchio vero Quando tramonto sopra, all'orizzonte Svolgono riusciti un occhio e stiglia a mezzo a sta guarda Che cercano di rimanere, trova su un filo di vento Mille di anni, le due che sono tu Dove quando veniva Natale, ci sentiva tutto quanto è qua È primavera, è primavera, è primavera, è primavera Una leggenda dice che durante la notte di Natale accade un miracolo Tutti gli animali, dalla più piccola formica al più grande urso, ricevono il dono della parola Nessuno li ha mai ascoltati Forse perché tutti noi siamo presi dal trambusto e dai festeggiamenti O forse perché è solo una leggenda, non realtà Ma se fosse vero, mi piace immaginare che i primi due animali a ricevere questo dono Fossero il bue e l'asinello, quelli nella grotta Che si sarebbero detti? L'asino che aveva fatto un bel viaggio accompagnando Giuseppe e Maria Avrebbe esordito con Finalmente, finalmente ma potessi ripusare il fuoco E dovendo immaginare, li faccio parlare in napoletano Il bue invece, all'oscuro di tutto, avrebbe chiesto La madre è sanguina La carità mi fa piacere che qualche compagnia sia sola La buon padrone di casa non faccio cercata Ma anche l'ansata Ma qui è notte, è pari mesi ora Tutta questa gente a mezza non fredda Rispondono da montagna in montagna Ma chi sono? Ommi chi sono? E poi ci sono io Vengono a rendere omaggio al re dei re Il re? E dove sta? E non vedi nessuna corona, nessuna mantina Ma sicc'è tanto, sta qua, andando a te Sto non niente Esattamente Questo è il salvatore Lo chiamano Gesù Nessuno c'era da casa Nessuno c'era da un posto caldo che fa nascere E siamo venuti a dottere Che figura Che figura che ha fatta l'umanità Nasce un salvatore Rinda in una grotta Tiene umidità E questo creatore è buono Dice, sa che c'è di nuovo In un salvo proprio a nessuno Già l'ha salvata Già l'ha salvata Va a capire la mia Ma finalmente l'uomo Sabe Che re o perdone Ma finalmente l'uomo Se schianta L'uomo L'uomo Il figlio è raffigliato, il figlio è raffigliato, il figlio è raffigliato. E l'ingiudea luna, la ricetta, l'anima ma sparta, l'occhio è raffigliato. L'anima ma sparta, l'occhio è raffigliato. Ma, fuori Maria e papa alla campagna. Ma, fuori Maria e papa alla campagna. Buona marona, persa, sorretto, ogni pronta aiuta, aiuta, ricetta, ogni pronta aiuta, aiuta, ricetta. Frutta e lupina mia, frutta e lupina, a rabo dianna scunda lo mio bambina, a rabo dianna scunda lo mio bambina. Ma, fuori Maria e papa alla campagna, a rabo dianna scunda lo mio bambina, a rabo dianna scunda lo mio bambina. Ma, fuori Maria e papa alla campagna, a rabo dianna scunda lo mio bambina. Ma, fuori Maria e papa alla campagna, a rabo dianna scunda lo mio bambina. Ma, fuori Maria e papa alla campagna, a rabo dianna scunda lo mio bambina. Ma, fuori Maria e papa alla campagna, a rabo dianna scunda lo mio bambina. Ma, fuori Maria e papa alla campagna, a rabo dianna scunda lo mio bambina. Ma, fuori Maria e papa alla campagna, a rabo dianna scunda lo mio bambina. Ma, fuori Maria e papa alla campagna, a rabo dianna scunda lo mio bambina. Ma, fuori Maria e papa alla campagna, a rabo dianna scunda lo mio bambina, a rabo dianna scunda lo mio bambina. Ma, fuori Maria e papa alla campagna, a rabo dianna scunda lo mio bambina. Ma, fuori Maria e papa alla campagna, a rabo dianna scunda lo mio bambina e papa alla campagna. La mancia portarà in la mano e Gesù Cristo. Un'altra storia che vogliamo raccontarvi risale ad un secolo fa. Innanzitutto bisogna capire che Natale arriva comunque, anche quando gli uomini non ce la passano molto bene. Perché Natale è come un amico, c'è sempre, nei momenti belli e in quelli più particolari. Ne hanno avuto la prova come i giovani soldati della Grande Guerra, la prima guerra mondiale. Si combatteva le trincee giorno e notte. Il 24 dicembre del 1914 però accadde un qualcosa di straordinario. La neve cominciava già a cadere, lenta, calma e tranquilla. La neve non lo sapeva che c'era la guerra. Improvvisamente tutti cessarono di sparare. Molti soldati cominciarono a mettere delle candele sul bordo delle loro trincee e sugli alberi vicini. Gli altri capirono e così i soldati delle due truppe nemiche fino a quel momento decisero di venirsi incontro, fermandosi nella terra di nessuno, quella terra che divideva le loro trincee. Per fare che cosa? Per festeggiare insieme il Natale. Si scambiarono il cibo, si scambiarono da bene e qualcuno riuscì anche a procurarsi dei regali, perdonarli. Alcuni cominciarono a scambiarsi i bottoni delle loro uniforme augurandosi il Buon Natale. Organizzarono anche una partita di calcio. Una tregua. Una tregua di Natale durante una guerra mondiale. Nemici, nemici con bandiere e lingue diverse, vi vennero fratelli, abbracciandosi e cantando insieme. Vi presentiamo gli ultimi tre ragazzi di Musiquet. Alessandra Bruni, Carmina De Simone con una canzone scritta da lui e Stefania Barretta. Santa, tell me if you're really there Don't make me fall in love again if he won't be here next year Santa, tell me if he really cares Cause I can't give it all away if he won't be here next year I've been down this road before Fell in love on Christmas night But on New Year's Day I woke up and he wasn't by my side Now I need someone to hold Be my fire in the gold But it's hard to tell if this is just to think of If it's true love that he thinks of So next Christmas I'm not alone Boy Santa, tell me if you're really there Don't make me fall in love again if he won't be here next year Santa, tell me if he really cares Cause I can't give it all away if he won't be here next year Natale siamo noi Quando sorridiamo alla vita Natale siamo noi Quando la neve scende e riva al mare Natale siamo noi Pieno di doni per i nostri bambini Natale siamo noi Con i nostri nonni sempre vicini Non aspettare che lo dica il calendario Che sia ad agosto oppure a febbraio Natale siamo noi Non aspettare che lo dicano le stelle Natale siamo noi, Natale siamo noi, Natale siamo noi, Natale siamo noi Non aspettare che lo dicano le stelle, nel cielo sono tutte belle, Natale siamo noi, Natale siamo noi, con la mano sul cuore aspettiamo il Natale. Con la mano sul cuore aspettiamo il Natale. 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 Oh, don't, it's been said, many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, to you. Non dimentichiamoci di custodire il nostro presente. A farlo non ci vuole niente, si tira fuori del cartone che avevamo nello cibozzino ed è fatto. Ma se troviamo che sono un pastore senza bracci, pescatore con la canna spezzata, o calciatore con fucile tutto incontrato, o una pega senza inrecchie, o un angelo senza scelta, non possiamo lasciarli così. Dobbiamo ricordarci che quei pastori sono stati primi a fare visita al video di video. Quei pastori che rappresentano gli ultimi, quelli emarginati dalla società, solo perché erano semplici o popoli. Sono importanti. Poi ogni pastore, la sua posizione specifica sul presente. Non le accontriamo, non è un amato, sicuro bene bene. E poi troviamo il pescatore che invece di pescare tutto l'uccello, sta pronto a lavorare con un mese in tempo. Già si fa 11 mesi in bacchetta dell'indana scala. Mi sembra bello che ha un timozzamugliari invece che davanti alla rotta, rindata bella. O un timo a fare un svecci. Un po' di accortezza. Ogni pastore, la sua storia. Pure quello che vi sembra il più insignificante. E quali sono le storie? Eh, insomma, dobbiamo fare tutto loro. Prendete i vostri figli, i vostri nipoti. Mettetevi insieme davanti al presente. E cercatele le storie. Per ogni pastore. Semplicità. Questo ce l'hanno lasciato quei pastori. E così si passa il Natale per farci compagnia con le persone che vogliamo bene. Non lo dimentichiamo. E così si passa il Natale per farci compagnia con il Natale per farci compagnia con il Natale per farci compagnia con il Natale. Natale per farci compagnia con il Natale per farci compagnia Con sizi. bella con mano in te. Ma stanotte in Natale non si è lindo con la sua anziera capora propeste in te. sua anziera capora propeste in te. con 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 te. auguri! auguri! con te. 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 con te.